ciao a tutti bentornati e benvenuti sul mio canale nel video di oggi mi truccherò con voi ma oggi non utilizzerò a differenza delle scorse volte una palette di jeffrey bensì margarita palette di glam light avevo già fatto il video con la dorthy martini ovvero la versione verde e mi avevate richiesto anche questa qui fucsia quindi eccomi qui esattamente come per quella verde anche questa si presenta dentro la sua confezione a forma di bottiglia che una volta aperta ecco qui la palette questo è l'interno della palette e a differenza delle altre di questa collezione che comunque sono monocromatiche su per giù questa è tutta arcobaleno ovviamente come succede sempre in questi video fino all'ultimo non so mai che look andare a realizzare quindi anche oggi non ne ho assolutamente idea credo che forse utilizzerò questo azzurro penso questo fucsia che non ho sentito parlare molto bene e mi ispirava anche un sacco questo fucsia che non so se rende ma è super duochrome perché è fucsia con tutti i riflessi azzurri mi sono avvicinata ho applicato un primer occhi ed ora come primo colorino quasi quasi andrei a prelevare watermelon e vado a preleverlo con questo angolato direi che a pigmentazione ci siamo assolutamente vado come per crearmi una specie di eyeliner ovviamente lo sto mezzo tamponando quindi fallout però non avendo ancora fatto la base non c'è problema posso usare di questo colore è super fluo molto bello caldo non è di quei fluo freddi è un bel fucsia caldo vado con un pennellino ancora più piccolo ad intensificare la situa con strawberry ovvero questo fucsia più scuro e vado ad intensificare la parte più attaccata all'occhio vado ora con un pennellino super piccolo a prelevare questo bellissimo turchese anche lui sembra veramente pigmentato allora raga devo dire che è molto pigmentato anche questo è stratificabile quindi non avrete un colore super intenso dalla prima passata a meno che appunto non abbiate sotto qualcosa di appiccicato e chiaro ho sistemato un pochino la forma con un cotton fioc e ora vado a prelevare pre clipper e voglio provare ad utilizzare un pennello in silicone ok piccola interruzione ho provato a spegnere la ring light perché beh non lo so avevo messo la luce neutra e diventavo tipo fredda azzurrina verdastra non chiedetemi il motivo oggi veramente nonostante ci sia una bella luce fuori la fotocamera mi continua a impazzire bruciare l'immagine mettere colori che fanno veramente schifo e quindi beh proprio così stavo andando comunque ad applicare il glitterino e beh raga tanta roba provo ad applicarlo con un altro pennello che comunque oggi sono super fredda non lo so spero di riuscire a sistemare un pochino questa cosa in edit perché ad essere sincera mi dà molto fastidio ci sono certe volte che comunque esce una bella luce altre volte che sono sempre o fredda bruciata comunque alla fine lo sto applicando con questo pennellino super piccolo e devo dire che veramente tanta roba tanta roba bellissimo voglio provare a fare una cosa spero di non andare a rovinare il look però ci sono veramente troppi colori belli comunque no raga oggi veramente tra luci che fanno quello che vogliono spazio del telefono che mi si continua ad esaurire ormai qui quella esaurita sono io vi stavo dicendo che voglio provare ad andare ad applicare anche il verde sotto il fucsia anche un po' per provare più colore possibili così è il colore prelevato col pennello sembra già bello pigmentato lo vado anche a sfumare ovviamente col fucsia una volta arrivati verso la fine vado vicino anche dove ho messo il fucsia prima sopra e sfumo ho provato a riaccendere la ring light perché altrimenti avevo veramente troppo buio insomma non è che mi chiesse tanto la situazione e niente ho sistemato un pochino il look ho fatto anche l'altro occhio tra l'altro vabbè caliamo un velo pietoso assolutamente non per la qualità degli ombretti che sono una formulazione bellissima ma ho fatto veramente un look molto molto brutto vediamo se riusciamo a salvare un po' la situazione con un trend che sta andando in questo periodo per fare questo trend ci servirà un setting spray probabilmente avrete già capito di che cosa sto parlando ma se così non fosse voglio provare ad andare a creare degli eyeliner con gli ombretti sono andata a mettere un po' di setting spray qui vado a prelevarlo che tra l'altro questo è pure gelatinoso è veramente strano e vado a meschiarlo un pochino con la cialda cerco di stare in un angolino per evitare appunto di rovinare tutta la cialda direi che la pigmentazione sembra esserci vado a ritagliarmi la cut crease in alto allora raga pigmentazione direi 10 su 10 di qua ho solamente l'ombretto che si è andato anche in realtà un pochino a perdere raga che con sopra il rosa un pochino se n'è andato di cui l'ho repassato in versione eyeliner direi che la differenza si è nota tantissimo ho fatto anche l'altro occhio ed ecco il risultato dopo questo trend in realtà ha molti pareri discordanti perché molti dicono che sia inutile dal momento che appunto esistono i cake liner che sarebbero appunto quelle cialde che sembrano ombretto ma una volta attivate con l'acqua diventano degli eyeliner dicono che appunto facendo così si vada solamente a rovinare la cialda io per ora posso solamente dirvi che come risultato è figo cioè comunque bello pigmentato ci sta anche in applicazione è abbastanza secco ora non so se è perché io ho utilizzato questo setting spray di Shane che ha una consistenza gelatinosa non vi so dire se sia per quello comunque ha funzionato non vi so dire se durante le ore tende a sgretolarsi qui in realtà non credo perché appunto come potete vedere non mi va a far pieghe e quindi non dovrebbe se si applica comunque su zone che tendono a formare delle pieghe lì forse probabilmente si potrebbe andare a rovinare durante le ore appunto la cialda non so se vedete però si un po' si rovina nel senso che mi si è scavata tantissimo in questo punto dove sono andata ad applicarlo infatti ho cercato appositamente di mantenere solamente in un angolino per non andare a rovinare la cialda intera posso dirvi che è veramente veramente utile se vi serve un eyeliner dello stesso preciso colore dell'ombretto che avete applicato ora siccome tutto ciò non mi è bastato voglio fare la stessa cosa per l'eyeliner ecco qua la differenza dai direi che alla fine la situazione si è decisamente salvata andando ad utilizzare gli eyeliner eccomi di ritorno prontissima per andare ad applicare il blush c'è un piccolo problema essendo che io non sono assolutamente abituata ad utilizzare prodotti del genere mi sono sbagliata e ho già applicato la cipria spero che non dia fastidio al prodotto perché sto parlando di un blush in crema io non ho mai mai provato blush in crema perché sapete io non avendo la pelle secca non sento neanche la necessità di utilizzare più prodotti in crema possibili sul viso ad ogni modo questo è il Cheeky Color Jam nella colorazione Afternoon Peach della collezione Picnic di SheGlam questa è la colorazione non so in realtà se ti starà troppo bene con il look occhi comunque lo vado ad applicare con un pennello non so neanche qui se sia la modalità più corretta di applicazione di questo prodotto o se è meglio una spugnetta ma in ogni caso penso proprio che sia meglio applicarla su base non ancora settata però dettagli così ne approfittiamo appunto per vedere un pochino come si comporta anche con sotto una cipria ok direi che la pigmentazione c'è poco di andare pianino per evitare di fare dei danni però vedo che è bello pigmentato e raga devo dire che la sfumabilità c'è da lì è sicuramente più evidenziato sembra che abbia le guanciotte dal vivo è molto più naturale come effetto anche con sotto la cipria direi che si può utilizzare ora magari vado un pochino a stemperare la situa qui che soprattutto da lì veramente sembra che io sia color sfondo allora raga che dire sì anche su una base già settata direi che si sfuma perfettamente l'applicazione con questo pennello mi è piaciuto un sacco mi sembra veramente un buon prodotto per appunto non aver termini di paragone perché come dicevo poco fa io non ho mai provato dei blush in crema però mi sembra comunque l'ottimo prodotto perché si è sfumato in 0,2 non mi ha spostato la base vi ho aspettati anche per andare ad applicare ovviamente l'illuminante perché mi sono portata questi due ovvero Glimmer Lights di Nabla che questi due ci potrebbero stare molto bene e Dextreme Frost di Jeffree Star nella colorazione Gag Me che da lì non rende assolutamente la sua vera colorazione perché sembra giallina ma vi assicuro che è azzurro è uno di quegli illuminanti bianchi con tutti i riflessi e stavolta sono azzurre magari vedo di farvelo vedere meglio in swatch ecco qua non so se si percepisce che comunque sono molto freddi tendenti appunto all'azzurrino anzi se li guardo da qui sono persino rosa incredibile se lo guardo così è mega azzurro se lo guardo così è rosatissimo quindi direi di utilizzare questo sia perché va a richiamare tantissimo l'ombretto fucsia con i riflessi azzurri che abbiamo utilizzato prima sia perché la Glimmer Light l'abbiamo utilizzata nello scorso video quindi proviamo un po' questa qui vado a prelevarlo con il pennello da illuminante di Spectrum a 33 wow appena si è orato il pennello e già c'è un trepudio di glitter raga io ogni volta che provo gli Extreme Frost di Jeffree Star anche perché davanti non fa macchia io sono veramente sconvolta se io ormai la conosco la texture di questi illuminanti però resto sconvolta ogni volta sono meravigliosi è vero che costicchiano ma per quanto mi riguarda mi vale totalmente la pena raga non l'ho neanche bagnato che poi in realtà in video manco rende quanto dal vivo perché lì sembra tipo una ciazza bianca in realtà è proprio azzurro azzurro ci si vede tantissimo una cosa che amo di questi è che si vede tantissimo il colore a differenza di altri che nel tempo appunto mi è capitato di provare che magari dallo swatch si percepiva un po' il colore una volta indossato sembrava semplicemente un illuminante freddo bianco e il colore si non è che si percepisse più di tanto qua si vede proprio ed eccomi tornata a look completo alla fine sono andata a sfumare la matita nella rima inferiore con un po' di fucsia e nell'angolo interno sono andata ad applicare il rosa più chiaro dalla glimmer lights alla fine perché secondo me ci stava bene e nulla raga io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video vi ricordo inoltre che giù in infobox trovate tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social mi raccomando vi aspetto io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video ciao ciao